Come ogni anno i volontari di Croce Rossa italiana del Comitato di Gallarate intervengono e aiutano i Senzatetto sul territorio. È cambiato qualcosa rispetto agli altri anni? Negli anni noi abbiamo notato sicuramente un flusso abbastanza costante, forse negli ultimi due anni c'è stato un aumento. I volti, quello che stiamo notando, stanno cambiando. Ci sono dei volti noti che ormai conosciamo, ma abbiamo notato che ci sono anche tra le 50 persone che bene o male siamo in contatto durante questi mesi freddi, alcuni volti non li avevamo mai visti. Con il progetto In Strada Insieme, nato diversi anni fa, sono circa 25-30 i volontari della Croce Rossa di Gallarate che da novembre a febbraio, tre volte alla settimana, dalle 8 di sera in queste fredde notti, portano in senza dimora coperte, sacchi a pelo, offerti dal comune, tè caldo, cibo secco, a volte anche indumenti e accessori provenienti dai moltissimi donatori privati. Ma non solo. Noi ci sediamo accanto a loro e li ascoltiamo, che a volte è molto più caldo di un tè caldo. Storie di persone che perdono il lavoro ce ne sono, storie di persone che perdono la strada ce ne sono, storie di famiglie rotte ce ne sono, c'è tanto, c'è veramente tanto là fuori. Un'operazione di solidarietà in sinergia con altre associazioni in realtà del territorio gallaratese. City Angels, Caritas, Acli, Intrecci, Casa de Francesco, quindi grazie anche a loro riusciamo veramente a dare una risposta sul territorio. Le necessità aumentano, servono nuovi volontari al Comitato di Gallarate. Il 17 di febbraio partirà un nuovo corso d'accesso per entrare nella grande famiglia di Croce Rossa italiana, Comitato di Gallarate. Fai la differenza, unisciti a noi.